Ciao a tutti, mi presento, sono Tina, Tina Palen, fisioterapista e idrokineseologa, coordinatrice del centro Ipaguro. Stasera volevo presentarvi una mia carissima amica, Federica, che è qua, che è ancora me. Ciao a tutti. E raccontare un po' della nostra passione per l'acqua. Noi ci siamo incontrati appunto perché tutti i due amiamo questo liquido fantastico e abbiamo avuto l'occasione di fare delle bellissime esperienze, molto emozionale insieme. Adi che stasera l'idea era quella di presentare, chiedere se Federica vuole un po' raccontare di se stessa e di quello che abbiamo fatto insieme. Ciao Tina, ciao a tutti. Mi presento, io sono Federica, ho 36 anni e vivo vicino a Tina. Sono fibromialgica. La fibromialgia è una malattia che mi è stata diagnosticata nel 2012, a seguito di anni e anni di malessere. È una malattia di origine reumatologica fondamentalmente, perché il medico che in genere la diagnostica è proprio un medico con la specializzazione in reumatologia, ma coinvolge l'intero corpo a livello ortopedico, a livello neurologico, a livello di malesseri diffusi e cronici. Tanto è vero che viene definita la malattia degli invisibili. Invisibili perché sono dolori soffusi più o meno intensi, che perdurano nel tempo e alla cui diagnosi si arriva purtroppo in fase tardiva, intendo alla cui diagnosi medica. Quindi io non ho cominciato a stare male nel 2012, ma sono stata male molto molto tempo prima, se non che un'operazione importante mi ha scatenato questa malattia. Come ho conosciuto Tina? A seguito di questi diffusi stati di malessere, ho deciso di raccogliere a livello personale, quindi come se fosse un saggio, dei piccoli racconti di quello che quotidianamente mi succedeva. Alla fine di questa raccolta mi sono trovata con numerosi pezzi di carta in mano e ho detto perché non provare a pubblicarli. Così ho dato vita a questo che adesso vi faccio vedere, eccolo qua, è il libro che ho pubblicato nell'anno 2018. Quando ho scritto questo libro, siccome io di acqua ne ho parlato come appunto stavo anticipando Tina, perché mi sono trovata molto bene in acqua a livello proprio di cura dei miei malesseri e dei miei stati di algici, quindi dei miei stati di dolore. Sono riuscita a coinvolgere Tina e a chiederle se voleva darmi una mano a presentare questo libro dal punto di vista più professionale, ti ricordi Tina, perché io parlo di acqua e quindi avevo bisogno di una persona che fosse una terapista e che mi desse una mano a raccontare che cosa l'acqua trasmette. Tina vuoi dire qualche parola a proposito? Sì, infatti è stata una bellissima esperienza quella di poter condividere con lei un pezzo di questo libro che comunque è stata scritta da lei a livello emozionale del suo vissuto e empaticamente per quello che lei ha vissuto di questo suo stato di malattia che attualmente aveva. Il libro si chiama F come fibromagia e davvero una bella esperienza. Noi abbiamo avuto l'esperienza di poter fare l'acqua insieme e l'acqua che abbiamo noi qua al Pacura è un'acqua particolare, è un'acqua temperata in un microclima particolare, questo vuol dire che c'è anche l'aria che è calda e questo fa sì che il corpo per esempio tra asciutto e bagnato non ha nessuna differenza, la sensazione del pelle è piacevole tutto il tempo. L'acqua ha tantissime pro per quanto riguarda per esempio il dolore, è un antidolore vivifico, rende il corpo molto più leggero, si muove con tranquillità e si sente sostenuti e accoglienti. Potremmo passare tutto un'altra ora a raccontare degli effetti dell'acqua però chiedo invece Federica raccontare magari un pochettino più specificamente qual è stata la sua esperienza personale della sensazione nell'acqua. Assolutamente sì Sina, grazie per lo spunto, hai detto che l'acqua avvolge, assolutamente è la mia prima sensazione che ho avuto, quella di essere avvolta, quindi essendo avvolta mi sono sentita anche sostenuta in tutti i miei dolori. L'acqua ha sostenuto e ha trascinato via i miei dolori che sono appunto diffusi e cronici, più o meno con varie intensità in varie zone del corpo. In questo clima di me e te nell'acqua mi sono sentita in assenza di giudizio, questa era una cosa importantissima quindi sapevo che niente mi veniva chiesto a livello performativo, di conseguenza sono riuscita ad avere una grandissima empatia di me, con me stessa, di quello che l'acqua mi ha trasmesso a livello proprio emozionale e che quello che sono riuscita poi a rimandare anche a Tina. Giusto Tina? Condivido assolutamente, l'acqua ci sostiene, ci accoglie e facilmente possiamo relazionarsi in acqua, acqua è una parte empatica di tutti noi e ho sempre in mente questa idea che fondamentalmente noi tutti siamo nati in acqua e perciò è un elemento che noi conosciamo profondamente e la nostra prima intelligenza è proprio perché abbiamo ascoltato e siamo stati profondamente legati in questa questo liquido della pancia della mamma e qualche volta forse tutti noi dovremmo tornarci un pochettino più spesso e un pochettino di più di quello che normalmente facciamo. Ci sarebbe tanto da dire, ci sarebbe davvero tanto da dire e quello che volevo ricordare è che oggi io e Federica non siamo mica qua per caso, ma vogliamo ricordare che oggi è la giornata mondiale della fibromagia e un dato importante da ricordare e noi abbiamo voluto ricordarla con questa piccola chiacchierata. Grazie a te a Tina per avermi coinvolta oggi e grazie al Centro Paguro naturalmente che si occupa sempre del benessere delle persone. A me fa molto piacere essere stata coinvolta perché raccontare la mia storia è sempre raccontare un pezzo di me e un pezzo del fibromialgico in generale, sebbene ognuno di noi presenti sintomi diversi. Volevo appunto ricordare a tutti che fibromialgici non lo si è una volta all'anno, lo si è sempre. Il mio auspicio è quindi che ognuno di voi riesca a trovare dei momenti che possano portare alla consapevolezza per arrivare ad affrontare la giornata con le proprie risorse, sapendo che ognuno di noi è un valore prima di tutto per se stesso e quindi anche se continueremo a rimanere degli invisibili, avremo delle risorse in più per affrontare la giornata, per stare bene e soprattutto per sentirci importanti come siamo. Quindi grazie di nuovo. Grazie a te Federica, grazie della tua presenza.